A 24 ore dal ritrovamento del corpo di Pierpaolo Panzieri, ieri 21 febbraio da parte del fratello Gianmarco, il civico di Via Gavelli 19 si presenta così. Ieri sera sono stati tolti i sigilli quando in tarda serata è stata estratta la salma da parte dei necrofori. Questa mattina la strada è sgombra, ci sono i sigilli alle persiane con il locale sottoposto a sequestro del civico 19, civico in cui si vedono ancora i segni delle tracce di sangue che sono state parte dell'omicidio, probabilmente da parte dell'assassino che ha lasciato il luogo del delitto, tracce visibili anche sulle scale dell'abitazione. E questa mattina proprio Via Gavelli è stata meta di tante visite di pesaresi che hanno voluto capire il luogo in cui si è svolta questa tragedia, davvero con pochi precedenti e recenti in città. C'è anche chi ha lasciato un mazzo di fiori davanti all'abitazione, poca voglia di parlare tra i vicini di casa che di fatto conoscevano a stento. Questo ragazzo è trasferitosi qui da pochissimo, proprio dai primi giorni di febbraio, però tra i pesaresi la notizia non è passata inosservata, tanto sgomento. Guardando i giornali è una faccia che probabilmente abbiamo incrociato tutti in centro. Io abito in centro, a pochi metri uguali dalla via dove è successo. Sicuramente ci siamo incontrati, Pesaro è... ci conosciamo tutti praticamente. E la cosa più sconvolgente è questa. Poi vai a capire qual è il motivo, qual è la cosa. La morte di una persona non ha mai motivi validi, assolutamente. Però adesso sicuramente da parte di tutti, anche mia, c'è la curiosità di sapere il perché, il per come. Decidi di togliere la vita a una persona con cui hai cenato insieme e passato una serata insieme. E poi c'è chi come Patrizio Borchia, noto gestore della storica paninoteca cittadina, Arnold conosceva di persona la famiglia Panzieri ed è stato qui, sul luogo del ritrovamento, davvero, nelle ore concitate dell'arrivo dei familiari. Avendo un cliente che abita lì e ogni tanto ci chiama per portargli delle cose da mangiare, mi sono affacciato perché ho avuto l'idea che fosse lui, sai, in pericolo. E poi dall'ambulanza che invece era venuta per altre cose ho appreso di questo fatto di sangue e il padre che conosco mi si è avvicinato piangendo, insomma, drammaticamente. Sono rimasto lì alcuni secondi a consolarlo, poi è arrivato un dirigente della polizia e se l'è preso in custodia per, sai, tirarlo su di morale. E poi è stata una giornata tristissima, una giornata, sai, con un sentimento di tristezza perché poi, sai, queste cose non dovrebbero mai succedere, no? Ma i ragazzi oggi, sai, non hanno più quelle buone relazioni, noi delle volte litigavamo ma finiva con una spinta, questi invece hanno una violenza inaudita. Quindi il demonio si impossessa un po' di, sai, queste generazioni nuove.